Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Abbiamo fatto la nuova versione della traduzione nella nostra lingua anche per la patch 3.6, quindi volevo documentarvi su questa cosa. La patch 3.6 ha aggiunto diverse cose, adesso io non sono la persona meno indicata a dirvi che cosa è stato aggiunto, ma sappiate solo che fondamentalmente i combattimenti sono cambiati tantissimo, a partire dal movimento delle navi che ora sono più veloci, ma anche in combattimento è tutto molto più dinamico e come mi spiegava anche l'omista, non è più importante avere il numerino più alto, basta anche un numero più basso di potenza militare, ma per battere gli avversari ora dovete essere molto più tattici e dare specifici ruoli alle vostre navi. Quindi, a parte questo, voglio dirvi anche che la paradox in tutto questo, sappiate, questo magari vi farà un pochino valutare la cosa sotto un'altra ottica, non ha minimamente incentivato la traduzione in italiano, anzi non ha comunicato nulla. In anticipo ai ragazzi della traduzione, infatti loro avevano chiesto con un po' di anticipo di poter ricevere magari una versione beta per potersi portare avanti con le traduzioni, Paradox non li ha minimamente cagati, ecco, il vero termine è questo. Ma a parte questo, sappiate che non manca nulla. La traduzione è veramente ottima, io ho trovato solo un'inesattezza quando una notizia, i rilevanti i fini della storia, ma mi comunicavano della morte di un personaggio famoso sulla terra, insomma, era stato tradotto per dire che vergogna, invece, che peccato, what a shame, insomma. Però l'unica inesattezza, ma il resto che è un'interpretazione, insomma, che senza un contesto è dura, ma il resto traduzione assolutamente perfetta. Ma il tutto non finisce qui perché poi a fine video andremo a vedere quanto di tradotto potrete trovare online nel workshop di Steam. Sapiate solo che se avete sempre ignorato Stellaris come gioco, magari troppo difficile, oppure non avete mai capito effettivamente che cos'è, sappiate che io lo reputo un po' un narratore di storia, come capita anche in Rimworld, nonostante il gioco sia totalmente l'opposto di Rimworld, è uno spaziale, in pratica non un base builder o un colony builder, ma sappiate che è un narratore di storia perché? Perché la mia flotta è partita dalla terra, si è espansa, ha esplorato, ha colonizzato un altro pianeta, chiamandolo Nuova Terra, ha iniziato a far vivere popolazioni lì, ma ha anche incontrato in questo sistema un sistema con un buco nero, insomma, con la stella collassata, e la popolazione viveva all'interno di questi, diciamo, mi ricorda molto un episodio di Star Trek, all'interno di questi mondi orbitali, un po' come una ISS, insomma, una stazione spaziale, dove all'interno c'è un mondo fittizio, insomma, un mondo artificiale, ma non erano soli, c'era un'altra fazione da quest'altra parte, e la società era di tipo, a livello tecnologico, come la nostra, quindi era atomica, e quello che ho ipotizzato è che si fossero fatti guerra distruggendosi a vicenda, magari per la loro guerra nucleare, abbiano distrutto i loro mondi, trovandosi costretti a vivere in queste stazioni spaziali orbitanti, oppure, più semplicemente, i mondi sono stati distrutti dal collasso della stella, o forse tutto è avvenuto dopo, o prima, non lo so. Il fatto sta che ho deciso di una delle due, dal nostro primo contatto, sembravano comunque più affini ai nostri interessi, insomma, quindi ho deciso di costruire una stazione che li studiava sia uno che l'altro, solo uno dei due ho deciso di aiutarli. Aiutandoli li ho fatti diventare i miei vassalli, con dei precisi compiti, in pratica sono piuttosto liberi, possono fare un po' quello che vogliono, ma al momento mi preoccupa il fatto che si stiano espandendo da questo solo sistema a questi altri due. In compenso, si sono presi il sistema come proprietà loro, in vassallaggio mio ovviamente, e hanno riconvertito la mia struttura di studio degli altri, dei loro avversari, da semplice studio a studio aggressivo, cioè praticamente prelevandoli e studiandoli. Quindi è un po' discutibile la cosa, però vabbè, dovrò gestire. Ecco, io vi ho raccontato una piccola storia che è assolutamente insignificante, primo riguardo tutta la galassia, secondo riguardo tutte le meccaniche di gioco, ovviamente io adesso ho inserito all'interno un sistema di spionaggio che si sta espandendo, perché voglio tenerli d'occhio, e contemporaneamente a questo sto portando avanti la mia civiltà. Tutto questo per farvi un pochino appassionare, farvi affascinare da questo gioco, che già da anni potete godervi in italiano, ma adesso con l'ultima patch diciamo che non avete assolutamente più scuse. Ma non finisce qui perché adesso vi presento un attimino quello che potete trovare sul workshop. Quello che trovate sul workshop, praticamente a parte i miei oggetti sottoscritti, quindi avete praticamente la traduzione in italiano, calcolate che avete appunto la traduzione che è questa, avete la More Events Mod, quindi più eventi che succedono in gioco con la relativa traduzione, un ampliamento pazzesco della diversità dei pianeti e la relativa traduzione, questa ve la lasciate stare, extra eventi, quindi eventi ancora più nuovi per l'ultimissima patch tradotti anch'essi, e un pacchetto di storie di archeologia tradotti anch'essi. Ma non finisce qui perché ce ne sono anche altri, nel senso che se andiamo a cercare traduzione italiana, ce ne sono molti altri. Vabbè, adesso c'è la FIHI, la Real Space 3.8 con la relativa traduzione, quindi qui andate a cambiare proprio a livello grafico tutto, e tanti altri, Space Elevators, Expanded Star Bases, tutte tradotte in italiano. Credo sia uno dei giochi più tradotti a livello di contenuti secondari, tra tutti quelli che ho, almeno io personalmente. Grande merito ai ragazzi, ovviamente se avete domande scrivetele qua sotto, tanto loro guarderanno sicuramente il video e risponderanno, hanno anche un Discord, e cosa che mi ha lasciato alquanto stupito, loro lavorano puramente per passione, non hanno nemmeno, nemmeno un link di donazioni PayPal. Io ringrazio questi ragazzi per avermi comunque, diciamo, motivato a fare questo video, per avermi segnalato tutte le novità riguardo al loro lavoro. Vi ringrazio della visione, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao! 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 Ciao!